Abbiamo raggiunto un risultato secondo noi che mette le basi per provare finalmente a fare un lavoro sull'abbattimento della lista d'attesa in Toscana. Il nostro emendamento che è stato supplementato mantenendo praticamente tutta l'integrità dell'emendamento iniziale da parte del PD è riuscito a passare in aula, noi siamo molto soddisfatti, è stata approvata l'unanimità e speriamo davvero con le liste d'attesa trasparenti e con la possibilità di una prenotazione rapida a livello di sistema informativo per le prestazioni sia mediche che chirurgiche che si possa davvero aiutare i cittadini a risolvere almeno in parte l'annoso problema delle liste d'attesa. Grazie